Sarebbe stata sufficiente una telefonata per conoscere la situazione attuale del dragaggio del porto di Fano, ma purtroppo il desiderio di scuppi in questa estate dove il caldo gioca a brutti scherzi deve avere qualcosa di irresistibile. Mi sto scocciando, ha detto il sindaco di Fano Massimo Seri, che documenti alla mano smentisce la dichiarazione di Mirko Carloni, il consigliere regionale di area popolare. Infatti ieri aveva accusato il comune di non aver ancora presentato l'istanza per sversare i fanghi a largo di Ancona. Sono caduto dalla sedia quando ho visto che qualcuno sosteneva che il comune di Fano ancora non aveva fatto istanza. Allora, anche su questo, sono mesi che ne parliamo, io ho seguito personalmente passo dopo passo tutte le procedure, concordate con la regione, abbiamo studiato anche i tempi, perché certe procedure se si presentano prima si rischia che magari siano incomplete. Abbiamo cercato di preparare il terreno onde evitare di fare scivolate su bucce di banana. Questa è la lettera, quindi non sono chiacchiere mie. I primi di luglio di presentazione di istanza, ma era pronta fra l'altro da tempo, ma l'abbiamo concordata insieme alla regione. Secondo, è già convocata per il 3 agosto la conferenza di servizio. Allora, di cosa parliamo? Questa non è un'amministrazione immobile come sostiene qualcuno, ha detto il sindaco, ma al contrario non perdiamo neppure un minuto per cercare di assicurare alla marineria fanese a tutta l'economia portuale le migliori condizioni per poter operare, consapevole che il porto rappresenta una voce importante dell'economia locale che non può essere trascurata perché dà lavoro a centinaia di famiglie fanesi. Come mai? Secondo lei Carloni ieri ha fatto quelle affermazioni. C'è un problema a monte, ovvero nell'informazione da parte della regione? Ma io penso che lì ci sia stato forse un cortocircuito. Dopo io vedo che sono persona seria anche in questo. Qualcun altro avrebbe affondato. Probabilmente è mancata il filtro, l'informazione, hanno dato una notizia errata. Potevano alzare il telefono e dire al sindaco, ma è vero che ancora, se volete bene alla città, è vero che ancora non avete presentato l'istanza? Io gli avrei spiegato, no? Ti stai sbagliando, ti hanno dato un'informazione sbagliata. Io lo so, ci si gioca su questa cosa. Si vuole sempre buttare fango su chi lavora. Io mi sono stufato del fango perché da un mese a questa parte, da tutte le parti, e so benissimo che dietro ci sono le mani nascoste dell'opposizione. L'opposizione si rassegni e i conti si fanno verificando l'operato vero.